Possiamo vedere dopo? Mattia De Rossini, French team intermediate. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Bene, bella girata. Giù! 12 secondi passati. Fai scendere il cuore, respira bene. È tutto sulla girata, l'hai fatta bene, se le fai tutte così vengono a casa. Siamo a 30. Siamo a 40 adesso. Quando vuoi. Giù! Per minuto, benissimo. Espira bene, fai scendere, fai entrare nei polmoni. Sei a posto. Siamo a 27. Siamo a 27. È il tempo. 37. Ultimo sforzo. Una bella girata e viene a casa tutto. Brava! Giù! Molto bene, direi. Mi sa che fanno. 0,5. 0,5. 3. Ti lascio via questo. Oh, basta. Lascio vedere il bilancio. Vabbè, vado dietro. Vado dietro. 5, la manta. 5, 10. 10. Bene!